Che cosa vorresti dire a chi ti sta guardando ma tu non ci sei più? Allora la prima cosa sicuramente è quella di avere una mentalità ottimistica perché la vita è il dono più prezioso che noi abbiamo E poi far sì che sia un mondo più generoso e più buono Avanti tutta E lui è venuto fuori con queste parole chiedendoci scusa perché ci aveva cucinato Mi dispiace per lui, purtroppo c'è qualcosa di non bello Ecco queste sono le parole che ha detto Leonardo Ciao 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 Buon Dio ha voluto regalarmi questa giornata magnifica Sembrava veramente che mi chiedesse scusa perché mi ha dato il cancro Perché è stato tutto troppo bello E anche io vi rendo conto che grazie allo sport ho avuto quel quid, quella forza in più che io ritengo veramente ogni persona di sport abbia Insomma fate fare sport a queste nuove generazioni mi raccomando e niente Grazie Avanti amici amici Grazie 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 a tutti.